Personalmente sono contento di aver giocato questa partita, perché essere fermo due mesi è una cosa a due, è difficile per tutti i giocatori, però l'importante per me era ritornare in campo e sono contento. Dopo quando guardiamo la partita è un po' amaro perché esci con una sconfitta, quindi non è bello perdere, però ritengo la prestazione della squadra che abbiamo fatto una buona gara. Soprattutto nel secondo tempo abbiamo giocato bene, abbiamo fatto un bel calcio, però questo fa nervosire un po' perché loro hanno tirato una volta il gol, però anche l'azione a fine partita. Noi abbiamo creato tanto, non abbiamo fatto gol, però avanti così, riteniamo il positivo che c'è stata la prestazione e adesso pensiamo a domenica che è una partita tosta, dura, un bel torino, quindi ci prepariamo per vincere lì a Torino. Ho fatto tutto per ritornare bene fisicamente e quanto stai bene fisicamente le cose vengono più facili, però adesso devo ancora fare allenamenti, allenare per ritrovare la vera forma. E niente, farò tutti i giorni all'amento e dopo vediamo. Sono sempre un giocatore del Milan e comunque quanto sarò chiamato per giocare darò il 100% e dopo andiamo avanti così e vediamo che successe nel futuro.